Contagi in crescita nella città di Tore del Greco. Tra i cittadini molte le perplessità legate alla riapertura delle scuole. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto alcune opinioni. Che cosa ne pensa della situazione Covid-19 qui a Tore del Greco, visto che ad oggi siamo arrivati a ben 37 casi? Ci hanno detto di fare un po' di attenzione di più, ma vedo molte persone che trascurano un pochettino questi avvertimenti. Dovremmo avere un po' di coscienza in più nel rispettare queste norme che ci hanno indicato. Siamo poco responsabili. Qualsiasi persona, da minorenni a maggiorenni, anche quando magari si va in un bar, magari si va a prendere un caffè, non si tengono le dovute distanze. Non rispettiamo la legge. È molto preoccupante perché abbiamo bambini e la famiglia è un po' grandicella. Quindi lei è preoccupato per i bambini principalmente? Sì, sì. Ebbene, la scuola riaprirà il 24 di settembre di questo mese. Che cosa pensa? Quali sono le sue previsioni a tal proposito? Speriamo proceduto bene, come dice la ministra. Siamo nelle sue mani. Come a Colano, così pure a Torre. Tutti i paesi indoni stanno tutti allo stesso modo. Che cosa ne pensa della situazione Covid-19 qui a Tore del Greco, visto che ad oggi siamo arrivati a ben 37 casi? No, mi sembra a me sinceramente che le persone non ce ne effeggano proprio perché per quanto riguarda i posti dove vado io, seppur si mettano a 20 centimetri non hanno la mascherina. Quindi per me Tore del Greco, diciamo che non ci comporta come si dovrebbe. E in previsione della riapertura delle scuole che cosa pensa a tal proposito? Ma io penso che sarà tutto un fallimento da parte mia. Fallimento perché vedo dei bambini che non riescono ad andare, nel senso che i genitori non li vogliono portare. Allora io penso che attualmente non ci fa niente in sostanza. Speriamo che comunque rinsaviamo un pochino tutti e stiamo un pochino più attenti. Per quanto riguarda invece la riapertura delle scuole il 24 settembre, che cosa pensa? È fiduciosa? Io sono un'insegnante, vengo appunto adesso da scuola, stiamo organizzando tutto e cerchiamo comunque di fare attenzione a tutte le norme, a tutte quelle che sono le linee di guide che ci hanno indicato. Ci siamo dati da fare, non abbiamo rispettato più i temi. La pensa allo stesso modo? Non abbiamo rispettato, ci siamo proprio dati dalla vasta gioia. Tra dieci giorni riaprirà la scuola, i bambini e i ragazzi torneranno nelle aule. Sono contraria perché secondo me diciamo che il ceppo è proprio là nella scuola, perché se ne vogliamo parlare, il primo caso che fu, prima di... è stato proprio la maestra a Torre del Greco. Quindi di cosa parliamo? Distanziamento, ma i bambini come fanno a tenere questo distanziamento? Non esiste proprio. Questa cosa di mandarle e poi fra dieci giorni dobbiamo chiudere, non prendiamoci in giro perché succederà sicuramente. Quindi la sua previsione è che le scuole chiuderanno? Chiudono, aprono e chiudono automaticamente. Per me io non le avrei aperte le scuole, avrei fatto come abbiamo fatto quando c'era il lockdown, di studiare tramite i computer fino a gennaio. Aspettavo che passasse questo boom che si dice da tempo che deve arrivare e poi avrei riaperto a gennaio senza problemi. Quindi lei avrebbe continuato con la didattica a distanza? Sicuramente, perché per il momento è quello, secondo me, l'ideale, per non avere rischi, perché pure che voi mi date le certezze, però io comunque tengo il rischio che mia figlia si può mischiare e dopo se io non voglio rischiare di fargli neanche il tampone, perché devo tenere questo rischio? Perché questa è la paura mia, io non voglio avere il rischio di fare il tampone a mio figlio per caso di altri. I rischi che si corrono, o andare a scuola, o stare per strada a giocare con altri amici, più o meno stiamo là, ma poi la sicurezza non esiste. Pensa che i bambini non possano rispettare adeguatamente le regole? È molto difficile, già noi non le rispettiamo. Io sto senza mascherina e sto parlando con lei. Bisogna essere molto responsabili. Ci dicono i professionisti di questa situazione che bisogna tenere distanza di sicurezza e mascherina. Se ognuno di noi facesse e mettesse in pratica questa situazione, io credo che si ridurrebbero i contagi. Però purtroppo non tutti vedono che hanno la mascherina e quindi è una conseguenza di tutti i contagi che stanno aumentando, secondo me. Credo che i bambini debbano stare assieme, debbano imparare a convivere con il virus e soprattutto la scuola è il futuro e quindi è giusto che si ricominci.